Grazie a tutti. Ieri Mauro Pili interrotto nella conferenza stampa in aeroporto dai responsabili Enac. Continua l'attività di prevenzione e sicurezza sulle strade da parte del comando di polizia locale di Alghero. Nei prossimi giorni previsti controlli con l'apparecchiatura di ultima generazione Trucam, in grado di rilevare non solo l'eccesso di velocità ma anche diverse altre infrazioni. Nella pagina sportiva tutti gli appuntamenti del weekend riposa l'amatore rugby. Domani il derby tra Treseliges e Audax in seconda categoria. Mercedes Coral in campo oggi. Un saluto a tutti voi ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. Apriamo con la politica e con la corsa per le elezioni regionali del prossimo 24 febbraio. I vari candidati sono in questi giorni impegnati nella presentazione delle candidature. Possibile anche l'arrivo dei big dei vari partiti da qui alle prossime settimane. Questa mattina diversi gli appuntamenti nei locali che prima ospitavano il giudice di pace. Il consigliere regionale uscente di Forza Italia Marco Teddi ha presentato la propria candidatura in una sala gremita da tanti simpatizzanti azzurri ma anche curiosi. L'ex sindaco ha fatto un bilancio di cinque anni da onorevole ricordando le proposte fatte e le iniziative intraprese per la salvaguardia, promozione e valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti. La necessità del potenziamento della sanità, delle infrastrutture, il rilancio del nord Sardegna. Questi alcuni dei temi che sono stati affrontati con un duro attacco alla giunta Pigliaru. Ma sentiamo proprio le parole di Teddi, intervistato poco prima dell'incontro di questa mattina. 20 giorni alle prossime elezioni regionali, quest'oggi l'inaugurazione della sede per presentare la sua candidatura e farei anche un bilancio di questi cinque anni. Sì, faremo un bilancio di questi cinque anni di grande lavoro. Non iniziamo oggi formalmente la campagna elettorale perché la campagna elettorale noi l'abbiamo iniziata cinque anni fa quando sono stato eletto e con una squadra di amici estesa in tutto il territorio della provincia abbiamo lavorato per fare opera di opposizione ma anche opera di proposta. Oggi presentiamo non soltanto il rendiconto, il resoconto dell'attività svolta assieme a questa rete territoriale ma presentiamo anche le proposte sulle tematiche più importanti del governo della regione. Ci proponiamo di andare al governo della regione per risollevare questo territorio per risollevare una classe dirigente fatta di politica, di sindacati, di associazioni culturali che oggi non riesce ad alzare la testa. Ecco, noi vorremmo che il territorio rialzasse la testa, ne ha sicuramente tutti i diritti. E proseguiamo a parlare delle regionali questa mattina nella sala del Chiostro di San Francesco incontro del Partito dei Sardi con il candidato a presidente Paolo Maninchedda insieme ai candidati a consiglieri della circoscrizione di Sassari Gavino Tanchi e Maria Ausilia Loddo. Anche in questo caso diversi gli argomenti trattati davanti ad una platea di simpatizzanti. L'incontro si è aperto con l'intervento di Marco Balmina che ha letto alcuni passi del suo romanzo Nessuna come lei. Ma poco prima che Paolo Maninchedda incontrasse la platea al Chiostro di San Francesco lo abbiamo intervistato. Paolo Maninchedda è candidato alla presidenza della regione per il Partito dei Sardi oggi ad Alghero. Alghero, centro del nord-ovest, un nord-ovest che chiede comunque più attenzione. Eh sì, chiede attenzione ha ragione di chiederlo. Il grande problema che abbiamo in Sardegna è di una politica fortemente orientata sulla capitale, su Cagliari. Quindi il problema del riequilibrio dei poteri è un problema che Alghero pone giustamente. Pochi giorni fa è uscito un sondaggio su SVG. Che cosa ne pensa? Hai preoccupato? No, è un sondaggio falso. Noi l'abbiamo denunciato e stiamo agendo in tutti i livelli di giudizio per difendere i nostri interessi. È un sondaggio manipolato. Perché gli algheresi dovrebbero votare per Paolo Manichede e per il Partito dei Sardi? Perché conoscono le nostre proposte, perché le trovano coincidenti e adeguate ai loro interessi. E ieri un altro candidato governatore, Mauro Pili, per Sardi Liberi, scusate, era ad Alghero, all'aeroporto, per presentare la lista della circoscrizione di Sassari. Pili si è soffermato proprio sul trasporto aereo, in modo particolare su quello low cost che per anni ha fatto le fortune di Alghero. Duro attacco nei confronti non solo della giunta Pili, ma anche del centro-destra e del Movimento 5 Stelle. È una proposta, quella di riportare in mani pubbliche l'aeroporto di Alghero. E poi un piccolo caso con il leader di Sardi Liberi, che è stato interrotto da un responsabile dell'Enac dello Scalo, durante la conferenza stampa, perché a suo dire non autorizzato. Vediamo proprio un estratto del video pubblicato sui social, dallo stesso Pili. Probabilmente dalle immagini vedete che c'è un po' di trambusto alle nostre spalle, perché già da stamattina stanno cercando di impedirci di fare la conferenza stampa. Questo non è assolutamente possibile fare alcun tipo. Non possiamo interrompere una conferenza stampa, siamo in diretta, dopo ci prendete i documenti, fate quello che dovete fare. Quindi è evidente che non possiamo permetterci di bloccare una conferenza stampa, siamo di fronte a un fatto emblematico di uno Stato che vuole impedire in un bar a liberi cittadini di riunirsi, di incontrarsi e di dire quello che pensano rispetto a questo tema. Noi non possiamo e non lo dobbiamo assolutamente consentire. Quindi è evidente che da questo punto di vista... ...della mentelle della struttura che vi vanno state occupando... Noi stiamo occupando e stiamo anche consumando. ...vori o consumate... ...consumate... ...consumare... Se chiacchiera tra amici è un conto... Guardi, è evidente, è evidente, capite benissimo quello che sta succedendo, c'è una situazione che è evidente, che porta davvero l'arroganza dello Stato, arriva a queste situazioni e quindi come capite benissimo ci stiamo mettendo nelle condizioni di creare dei problemi al nostro progetto. E ieri Forza Paris ha presentato la candidatura di Gianfranco Langella, ho scelto di candidarmi perché credo che il nostro territorio non possa più aspettare, ha detto Langella. Guardo i giovani che emigrano per trovare un futuro, ma guardo gli adulti che hanno perso il lavoro e a 50 anni devono prendere la valigia e andare via, è un dramma sociale che grida vendetta. Il nostro territorio ha tutte le potenzialità per garantire la dignità e il lavoro a tutti, ma la politica dei partiti di governo, quella delle stanze e dei bottoni, ha sempre pensato ad altro, anzi non ha fatto nulla perché mantenere disoccupazione e povertà serve per continuare a trovare il consenso con le promesse e con i privilegi per pochi amici. Bisogna fare e non promettere perché da un'elezione all'altra, come ben sapete, nulla è cambiato. Gli stessi politicanti si ripropongono a voi con le stesse vane illusioni, ha aggiunto il segretario di destra democratica italiana. Sono uno di voi, chi mi conosce sa bene che nella mia esperienza da amministratore pubblico ho sempre ascoltato i cittadini e i loro problemi e mi sono sempre impegnato per trovare una soluzione. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle regionali, ma prima di dare la linea alla pubblicità un breve passaggio anche sulla politica cittadina perché martedì è in programma il Consiglio Comunale, ancora una volta in seconda convocazione. Ci sarà il debutto in aula per Roberto Barbieri, primo dei non eletti nella lista per Alghero, che prenderà il posto di Mario Nonne, nel frattempo diventato assessore con le deleghe alle manutenzioni, al decoro e al verde urbano. A proposito di deleghe, il sindaco ha deciso di assegnare quelle al bilancio e alle finanze ad Alessandro Balzani, espressione del PD che aveva già quelle dell'urbanistica e l'edilizia privata. Balzani dovrà fare i conti con la delicata questione legata alla riscossione ai tributi, quella ordinaria gestita da Secal e quella coattiva dalla Step, soprattutto dopo il recente blitz della Guardia di Finanza nelle sedi delle rispettive società. Ci lasciamo ora, c'è la pubblicità, a tra poco. Ritorniamo in studio, continua l'attività di prevenzione e sicurezza sulle strade da parte del comando della Polizia Locale di Alghero, impegnato con una presenza capillare nelle zone nevralgiche della città con operazioni di rilevamento della velocità. Il servizio verrà svolto con l'apparecchiatura di ultima generazione TrueCam, in grado di rilevare non solo l'eccesso di velocità, ma anche diverse altre infrazioni. L'attività è prevista nelle giornate di lunedì 4 febbraio e sabato, 9 febbraio via Le Burruni, via Garibaldi, via Vittoria Emanuele, strada 127 bis, tratto compreso tra la via Simon Mossa e località montagnese, tratto urbano. Da parte del comando di via Mazzini l'invito alla guida prudente e al rispetto del limite di 50 km orari fondamentale per scongiurare situazioni di pericolosità all'eccesso di velocità pericolose per se stessi e per le altre, quindi sanzionate dal codice della strada. Per l'Accademia Olearia di Alghero il 2019 inizia nel migliore dei modi. Nei giorni scorsi Giuseppe Foi, sei suoi figli, Alessandro e Antonello, hanno ricevuto la comunicazione che il riserva del produttore DOP Sardegna, uno dei prodotti d'eccellenza dell'offerta di Accademia Olearia, ha vinto la Corona Maestro d'Olio 2019. Per il terzo anno di fila all'Accademia Maestro d'Olio di Lucca, presieduta da Fausto Borella, premia Accademia Olearia tra tantissimi produttori che si candidano in Italia e non solo. Sabato 9 febbraio la famiglia Fois sarà presente alla cerimonia di premiazione che si terrà alle 20 al teatro del Giglio di Lucca. Mattatore della serata sarà Neri Marco Re, l'attore. Ovviamente la soddisfazione dell'azienda algherese è moltissima, perché anche in un'annata particolarmente complessa per l'olivicultura arriva una prima importante conferma, che l'impegno profuso per lavorare sulla qualità ha dato i suoi frutti. Il premio riconoscimento alle scelte della famiglia Fois, che produce olio da quattro generazioni e che dal 2000 ha un proprio marchio. Al massimo della nostra potenzialità produciamo circa 1.500 quintaliano e dicono i Fois, prima di rimarcare con soddisfazione, che siamo completamente ecosostenibili. L'impianto fotovoltaico sulla copertura dell'azienda soddisfa. Il pavisogno energetico e il riscaldamento è fornito dal nocciolino estratto dopo la produzione, mentre il residuo della lavorazione viene consegnato per la produzione di biogas. La stagione di prosa targata a CEDAC sta riservando davvero degli spettacoli interessanti e di successo per gli appassionati. Ad Alghero, grande apprezzamento per l'operazione, una divertente commedia sulla mala sanità, scritta e diretta da Stefano Reali, interpretata da Antonio Catani e Nicola Svaporidis, accanto a Giorgio Gopi e con la partecipazione straordinaria di Gabriella Silvestri e Marco Giustini, che è stata messa in scena ad Alghero giovedì e venerdì scorsi. Poco prima del debutto al Teatro Civico siamo andati ad intervistare i due protagonisti. Sentiamo. Antonio Catani e Nicola Svaporidis qui a Alghero, al teatro, l'operazione. Che cosa proponete alla platea? Che cosa verranno a vedere? Verranno a vedere noi due, e non solo, perché poi c'è Gabriella Silvestri, Giorgio Gopi che è sostituito a Maurizio Mattioli e Marco Giustini. È uno spettacolo super collaudato, fatto tante volte, ho fatto anche un film, un spettacolo che ha 30 anni, giusto? È un 30, sì, la storia dice così. Quindi è un'intrigante storia di ospedale, apparentemente racconta come si vive, tutti i problemi che ci sono qui dentro, poi in realtà si nasconde un gioco, un gioco pericoloso, una specie di thriller. C'è un motivo per cui io sono qui, degente su questo letto, da sei anni. Il veterano, da sei anni, mentre lui è il giovane, per istruire? Allora arriva fresco fresco e quindi non si capisce che cosa, che dinamica scatta, poi alla fine sarà un'amicizia probabilmente. È un tema... Qui vediamo uno scorcio di umanità, un po' romana, se vogliamo connotarla, però è quello che si arrangiano, che si fanno delle cose per aiutare i pazienti, per creare un clima comunque di solidarietà, di vicinanza, da questo punto di vista è positivo in questo caso. Poi la sanità, certo, ha tutti i suoi misteri e tutte le sue vie un po' contorte che vengono fuori, le magagne, diciamo. E' entrato al teatro e l'hai fotografato, ti è piaciuto questo piccolo teatro? Beh, accidenti, sì. È un teatro che io non conoscevo, lo ammetto, non ero mai venuto né a vedere delle rappresentazioni né tantomeno a lavorarci. Una delle cose che amo di più del teatro è proprio scoprire, specialmente in tournée, le architetture dei teatri all'italiana che noi abbiamo nel nostro paese, ce ne sono di meravigliosi. E ogni volta rimango stupito dall'eleganza di questo teatro, dalla sacralità di uno spazio che per un attore è unico. Il collega prima di me vi ha definito la strana coppia, tu ti vedi così? Ma che io e lui? Eh sì. Ma ho scoperto oggi che siamo una coppia, sinceramente, il che non mi dispiace tra l'altro. Strana, sì. Una coppia aperta. Beh, certo, strani lo siamo entrambi in modo diverso, però funziona. Ormai questo è il secondo anno che lavoriamo insieme. Io sono contentissimo di lavorare con lui anche perché io sono entrato dopo mentre Antonio questo spettacolo lo conosce praticamente a memoria. E ci si diverte. Ci si diverte in scena, ci si diverte fuori e soprattutto riusciamo a far divertire perché ti dico la verità, questo spettacolo non vuole raccontare uno spaccato drammatico di un pezzo d'Italia. Non ha quella presunzione, ma neanche quell'obiettivo, sinceramente. È più un reparto di ortopedia, come lo descriveva Antonio prima, romano, con quella leggerezza tipica dei romani, dove tra, diciamo, tra personaggi un po' sfigati, ci si aiuta per riuscire a risolvere le nostre vite. Ed è un reparto di ortopedia forse tra i più divertenti d'Italia, per cui il pubblico stesso, nonostante i temi che noi affrontiamo, che a volte sono anche seri, riusciamo a farli divertire. Quindi questa energia che c'è tra noi, non solo tra noi due, ma con tutto il resto della compagnia, riesce ad arrivare al pubblico che in qualunque città d'Italia dove andiamo risponde come hanno risposto a Roma e questo ci rende molto contenti. Ed ora ci lasciamo. Ultima pausa pubblicitaria, poi parliamo di sport. Apriamo la consueta pagina sportiva del sabato con il rugby, campionati in pausa per la disputa delle sei nazioni. L'Alghero reduce dalla vittoria esterna sul campo del Benevento, si allena e continua la preparazione in vista della ripresa il prossimo 17 di febbraio, quando a Maria Pia arriverà l'Aquila. Intanto proseguono anche le attività del settore giovanile. Domani alle 15 a Sassari, la cadetta della Cia affronta il recupero, la gara non disputata a novembre con l'Olbia, mentre sette atleti dell'Under 16 accompagnati dal loro tecnico Giovanni Bonetti e dall'assistente tecnico Marcello De Leda parteciperanno a uno stage per preparare la gara del prossimo 10 febbraio a Roma con la maglia della selezione Sarta. Passiamo al calcio perché domani è in programma la seconda giornata di ritorno nel gironei di seconda categoria che propone il derby tra Trezeliges e Audax. La squadra di Bardini è al quinto posto a meno tre dalla seconda. Dietro a tre lunghezze di ritardo c'è invece la formazione Bianco-Verde. Con l'ottava ormai praticamente irraggiungibile, le due squadre puntano quanto meno a chiudere il campionato subito a ridosso della capolista. Domani appuntamento alle 15 al campo di Villa Assunta. Giocherà domani alle 15 anche il 1945 al Ghero nel campionato di terza categoria. Al Mariotti i giallorossi se la vedranno con il Calmedia-Bosa. In prima categoria nel girone di L'Olmedo dopo essersi portato a meno uno dalla capolista Lanteri punta a restare in scia e anche domani contro il Malaspina proverà a fare bottino pieno. Chiudiamo con il calcio a 5 e questo fine settimana le due formazioni algeresi non scenderanno in campo. In settimana l'Audax ha perso 5-2 sul campo dell'Ales e mancando così l'accesso alla finale di Coppa Italia per i bianco-verdi a Segno, Martinez e De Ruda. Le due squadre locali riprenderanno il campo nel prossimo fine settimana. La fuzza a l'Alguero venerdì sera a Macomère l'Audax in casa contro il moroso Gono Snow. E chiudiamo con il basket nel campionato di Serie C femminile. Mercedes in capo quest'oggi al Palacorbia per la penultima giornata della prima fase alle 19 contro l'Astro Cagliari. di Bianco-Azzurro ormai sicure del secondo posto mentre le Cagliaritane sono attualmente in sesta posizione con 14 punti la metà di quelli conquistati dalla Mercedes. In capo quest'oggi anche la Coral in serie di maschile in questo caso per la quarta di ritorno. I ragazzi di Cocce e Briscese giocano agli 18 sul parquet della Palacanestro Nuoro formazione che si trova al penultimo posto con 6 punti conquistati. 26 invece quelli della Coral che vuole restare in scia della capolista Oratorio Elmas distante appena due lunghezze. E parliamo sempre di palla spicchi ma per quanto riguarda i campionati Wisp è stata anche questa appena trascorsa una settimana agrodolce per la Gabetti. Si è concluso giovedì infatti con il quasi derby contro l'Accademia Almedo Basket il difficile gennaio delle formazioni Gabetti impegnate nel campionato Wisp di Palacanestro ancora una volta vittoria per la formazione A mentre la giovane Lab è caduta anche nell'immediato incontro di ritorno contro i campioni in carica della Mastersassa di vittoria invece nel campo neutro del Palacorbia per il roster guidato da Coach Cabras 82-62 per la squadra capitata da Francesco Costantino il punteggio finale risultato tuttavia bugiardo perché i verdi di Olmedo sono rimasti in partita quasi fino all'ultima sirena riducendo spesse volte lo svantaggio a pochi minuti e vincendo 16-20 il terzo quarto tra l'altro la formazione guidata da Sergio Ibba già numericamente non consistente ha anche dovuto rinunciare nel terzo quarto a Piccin autore fino ad allora di 15 punti per quanto riguarda il proseguo del campionato nuova trasferta per la Lab che lunedì 4 febbraio a stasera affronterà in Piccababu la formazione A invece per la prima giornata di ritorno è attesa a Tissi da Sport Tissi martedì 5 ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana arrivederci a Tissi a Tissi attesa a Tissi per la prima minuti di